musica 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 e cominci a girarvi meno 5 un attimo io… ah… cioè il 對 Il cronometrista della danza è in viva voce e io dico di nuovo almeno 5, 4, 3, 2, 1, via! Ragazzi, posizionatevi. Allora, ha davanti dichiarato questi rasghiacci che volevano passarvi sulla testa e qualcuno di voi vi faccia vedere chi siete. Attenzione anche per voi, meno 5, 4, 3, 2, 1, via! Partiti per questa diciottesima edizione della Grand Ford New Yorker. Bellissima questo spettacolo, abbiamo! Bellissima! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.